Adesso invitiamo sul palco anche il dottor Matteo Muraro, il direttore commerciale del gruppo Calzedonia e responsabile delle sponsorizzazioni sportive. Buonasera, buonasera, ben trovato. Siamo al dodicesimo campionato consecutivo, permesso presidente di sponsorizzazione, un altro un anno, un nuovo campionato. Il dodicesimo anno, quindi contraddiciamo un po' il presidente che era arrivato senza sponsor. E' il dodicesimo anno che siamo vicini alla scaligera basket e riconosciamo che negli ultimi anni ci siamo divertiti perché il progetto è stato un progetto nuovo ed è stato un progetto giovane che ha entusiasmato tutta Verona. E questo è molto importante, è anche molto bello. Noi l'abbiamo sottolineato anche poco fa che il claim della campagna abbonamenti è che non è solo basket. E per il gruppo Calzedonia che cosa significa e che cosa rappresenta? Chiaramente non è solo basket perché noi intravediamo nel basket anche tutti quei valori, l'ho detto tante volte, valori importanti dello sport che poi sono valori che servono per la vita ma servono anche per le aziende. Quindi non solo basket ma tanto altro e tante cose che servono. Ci sono aspetti importanti, la città, i tifosi, le famiglie che poi vanno a tifare, i tifosi di cui parlava che si divertono, insomma anche questo è un aspetto importante. Beh del resto noi ci aspettiamo tante vittorie perché lo sport a livello agonistico si fa per vincere, ci aspettiamo tanto entusiasmo, cosa che è arrivata con questo nuovo progetto e ci aspettiamo tanto pubblico perché chiaramente la nostra voglia di sponsorizzare deriva anche dal fatto di essere vicino alla nostra città, alla nostra Verona.